Che cosa aspetti, Anna? Apri i regali. Oh, è davvero bellissimo. Quando scrivi... A chi scrivi di preciso? A me stessa, ovviamente. Io immagino che il mio diario sia una ragazza. La mia migliore amica. Si chiama Kitty. Kitty? Mi piace. Scendi, Anna, ti sto aspettando. Viene a scuola con te. Sì. Con chi stai parlando, Anna? Fino all'anno scorso erano tutti innamorati di me. Tutti quanti? Era davvero meraviglioso. Poi è cambiato tutto. Ce ne andiamo. Dicevano che eravamo responsabili di tutti i problemi del mondo. Questo appartamento segreto sarà il nostro nascondiglio. Ogni persona che viene accorta probabilmente sarà una vita salvata. Puoi usare i personaggi che hai nella tua testa. Affinché combattano la tua guerra. Questa ragazza si chiama Kitty. Cerca Anna Frank. L'avete vista? Anna non ha scritto il diario per essere venerata. La cosa importante... Salite! ...è che facciate tutto il possibile... ...per proteggere anche una sola anima dal male. Anche una sola. Che cosa vedi, Peter? Vedo le forze alleate che vengono a liberarci. E tu? Io vedo degli angeli, Peter. O? Dio. O? Grazie per la visione!